Partecipare alla giuria di un premio che va alla ricerca del talento, questa è già la risposta del perché fare parte di un'iniziativa di questo genere. Oggi il talento va messo in campo, bisogna innanzitutto scoprire qual è il proprio talento e poi fare leva su questo talento senza scoraggiarsi mai, ci vuole poi magari del tempo e delle scorse per riuscire a esprimerlo appieno ma sul proprio talento molta fiducia che bisogna fare leva per riuscire a realizzare le proprie intenzioni, i propri sogni e anche una buona vita, un buon lavoro. Quindi senz'altro partecipare a un'iniziativa di questo genere in un campo come quello di cui stiamo parlando, cioè quello del franchising è molto interessante e molto importante perché parliamo anche di iniziative nuove, quando si dice oggi franchising si dice iniziative che possono veramente cambiare la vita delle persone di qualunque età, quindi non solamente giovani ma anche persone meno giovani che vogliono cambiare o addirittura devono cambiare perché come sappiamo si deve molto spesso, si è costretti a farlo oppure se ci devi farlo.